Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovissimo video su Dragon Ball Legends con niente popo di meno che per la prima volta Joseph the Gamer Ciao Joseph! Ciao a tutti ragazzuoli! Carichi per Goku Ultra Istinto! Eh sì, perché ormai ci manca soooooolo lui da trovare a me A me Ma pure a me tra l'altro, vabbè comunque Vabbè, vabbè Ragazzi, detto questo, io invito a lasciare subito un bel like Carichi al massimo Hashtag Verosayan Mi raccomando Oh che pendito Gianfra, il solito pendito Se volete delle altre pool Joseph, portiamoci subito nelle summon Allora, abbiamo due step differenti, nel senso Abbiamo le step up messe in modo diverso, ok? Io sono al terzo step, quindi sono all'inizio del giro Joseph dovrebbe essere al quinto, giusto? Sì, sono al quinto giornale Quindi Joseph in realtà, ragazzi, vi dà subito il contenuto Vi dà subito il contenuto con il character rates per 2, o no? Esatto Oh ma lasciate un like, vogliamo dirlo? Ma quanti like dobbiamo dire? Arriviamo a 3.000 like A 3.000 like Ma come a 3.000? Gianfra, 5.000, 10.000 7.000 like pull infinito Vai così Pull infinito dell'ultra istinto Ragazzi, ho detto questo Joseph, vado io con la mia primissima multi da 700 E direi Ma che è Gianfra oggi? Non lo so, sto ormai fuori di testa perché questo personaggio mi piace talmente tanto Lo spazio dell'infinito Gianfra, ma ti posso dire una cosa? Ma tu oggi pensi di trovarlo? Sincero? No No, è Gianfra, ma come no? Sincero? No Ti stiglano crystals lì Sinceramente Ma ora Gianfra, la gente ti dice che li hai shoppati Pure se il limite massimo è 20 No, no, vabbè ci sono Oddio! Vegeta Super Saiyan Blue Purple L'ennesimo Proprio te volevo Proprio te Gianfra, non penso volevi quello Vado? No, no, aspetta, aspetta Che poi non l'abbiamo detto Ma io ho trovato già 3 LF Tutte e 3 Vegeta Blue LF, guardate Incredibile Incredibile Niente, solo Vegeta Blue Che ormai c'è questo qui Io prevedo che per la fine della step up Andrà tipo a 7 stelle e più Va bene, vai Joseph Vado Gianfra, vado io Allora, il discorso è che Lui è quello che Quanto c'ha di rate? 0,0 Quanto è? 0,25 Ma c'è quel rate Magari una volta Tipo era diviso per Cioè non era diviso per 3 Nel senso C'erano 3 LF A 0,25 Quindi la nuova Più altre 2 Mo invece È questa qua Più 3 Più altre 3 Eh, ho capito Vabbè, allora Vegeta, Goku E Beerus Attenzione perché qua Bella sferega Enkidama Contro Freezer Che va a musso a terra Come si suol dire Attenzione Ah, ovviamente Sta cosa me la ricordo Sta cosa me la ricordo Sempre dopo 5 minuti Ragazzi, tranquilli Nessuno mi ha picchiato È una redazione dell'apello Detto ormai in 40 video Ok Vabbè Gianfra, Sparking Trovo usualmente Mi trovo così Jiren Jiren Buono Un'altra Sparking Dispo Ma Gianfra Ma che è un'altra Sparking Hit Mamma mia Gianfra sta No, Gianfra sta rimbazzendo Gianfra Ah, ma il character rates per 2 Sì, il character rates per 2 Eh, vabbè Sì, sì Sì, sì Oh, sei rientrato Tutte e tre le volte Nel per 2 Gianfra Dispo Jiren Abbo E poi Hit Abbo Ah, no, due volte Allora sei rientrato Scusami Vado io? Vai, Gianfra Vado, vado, vado Vado Vados 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 Altre mille cronocrystals Per il gioco Vai Ormai te le vuoi mangiare tutte Ho capito Tutte le cronocrystals Messe da parte Con sudore Spazio Ancora una volta Lo spazio dell'infinito 5 pod Super Saiyan Ma una bella Brawly animation Me la daresti Ma una bella Brawly animation Me la daresti Quaranta Dispo a 7 stelle Ma almeno variamo un po' Almeno Giren Cioè Un po' di Cioè Variamo Facciamo vedere che 4 stelle Io sono contento Oh io sono andato Eh Ma io ancora non ho finito Vabbè Fa nulla Fa nulla Vabbè Ormai Sono andato Gianfra Perché Pensavo avessi finito Che ne so Comunque io so Trova sempre Gli stessi personaggi Guarda Ci manca solo che mi esce Una LF E mi esce Vegeta blu Guarda Poi Ho trovato sempre Gli stessi Non lo voglio Manco Vedere Qua secondo me Mancano A sparking Lo ti faccio vedere Gianfra No Qua busca proprio No Non ce la fa proprio Qua Ma spero Nel fake out Ovviamente Vai Qua tipo 4 fake out Ed eccola L'ho chiamata Trunks team Ciò stava Il rosso Quale Sì sì Quello là Con le mani al cielo Che Eh sì sì Vuole divertire Sì sì Che voltista No no Con le mani al cielo Capi Fa tunze e tunze No vabbè Gianfra qua comunque È nata proprio male Niente L'ho trovato quel Trunks sparking Ma proprio perché È stata la mia fortuna Che ho detto Vabbè facciamogli trova Comunque qualcosa Ma Zero Nata de nata Vai 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 Gianfra vai tu C'ho il character race per 2 Ogni volta Ammetto che mi viene sempre Un mezzo brividino Che sale dal E arriva fino Dal? E dal L'ho fatto vedere Più o meno Da dove sale Ah Gianfra C'è sempre il brividino Però Sarò sincero Poi ci perdo le speranze Quando vedo Soprattutto le animazioni Perché Quando già parte Con una mech verde Tre pod Già ti abbatte Diciamo come Già ti abbatte L'animazione Proprio Mamma mia Mamma mia Mamma mia Gianfra Bene Va bene Gianfra l'hai trovato Questo Goku Ultra istinto Oppure no No Giuseppe Ma io credo Di non trovarlo Sarò onesto Gianfra ma che dici Ho bruttissime sensazioni Brutte brutte Ma che dici Perché mi piace talmente Tanto il personaggio Che Eh Che è il master Niente Zero Vado Eh Vados Yes Abbon Gianfra Io ti Profetizzo Questa cosa Ma chi è che diceva Profetizzo Chi era Mirko Più o meno Non mi ricordo Beh comunque Ragazzi Io vi dico Blazzi in questo video Troverà Goku Ultra istinto Gianfra Come si fa le Croce Gianfra Gianfra Lo troverai Vai Non ti buttare giù Un Goku Ultra istinto In questo video Ci sarà Poi è da vedere Chi lo troverà Dici Tra l'allero là Qua nel frattempo C'è un bel Goku Su Passa Aiajin Di terzo livello Ok Un bel pugno Del drago Prima Sparking Kefla Mocca No Aia Aia Sa Kefla Ce l'ho Tipo a 2-3 stelle plus Nuova Sparking Di nuovo Dispo L'hai spammato Dispo ce l'ho A 7 stelle plus Per dire Come 7 stelle plus 7 stelle Eh no Scusa Volevo dire A 1 stella plus L'1 e il 7 Sai Ma mi ha spammato Dispo Ma che Ma lo fanno apposta A sto Dispo Te lo danno continuamente Non ci sta niente da fare Non ti salvi Dimmi quando ci sei Vado Vai 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 tu Io ho abbassato il tono di voce Perché ho dato un paio di urla Poco fa La voce mi si è calata Un botto Quindi mi devo Ristabilire un po' Vado io Vado io Vado io Vado io Vai vai Gianfra Ehi Namek verde Repod Continua C'è una L'ho già vista 3000 volte Ormai questa cosa Verde più 3 Fantastico Mamma mia Non ci sono variazioni Niente Mamma mia No Per il momento Proprio Zer Mamma mia Bella chiavica Gianfra Freezer Extreme Ma onestamente Una certa Ce ne facciamo Ben poco Mamma mia Gianfra Ok Che penuria Mi sa che questa è finita Cioè questa Pure è vuota Zero Probabile C'è una vado io Sì vai Vuota Vuotissimo Però Però io ti ho dito la verità Capisco che Effettiamo Interrate È bassissimo Molto Ma a fine mo qualcuno L'ha trovato Sto ultraistinto Sì qualcuno Qualcuno mi sa di sì Ma Mamma mia 5 space pod Però una mac Una mac Verde Male 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 Però Non so 5 Almeno non so 3 Mamma mia Mamma mia Ho fatto l'abbonamento Io con queste 3 O oggi Manco ce la fa Mamma mia Oggi sto soffrendo Perché ragazzi Ovviamente Stiamo registrando tutti i video Uno dopo l'altro Quindi la sofferenza Proviene anche dai vari video Io credo di aver Ormai quasi Anzi credo di aver superato Il mio Limite Diciamo di cronocrista Spese Per lf Non trovata Mamma mia Gianfra Qua nemmeno una sparking Vuota Già è finita Sì sì è finita Gianfra Zero sparking Qua Mamma mia Ma come si fa Sono andato io Vai vai Gianfra Trovalo pure per me A sto punto Confido in te Trovalo Mamma mia Questa è l'ultima E poi andiamo di ticket Sì Eh vabbè Sempre 3 3 verde Oh Ma come Eh sì Cioè che vogliamo fa Le Gioco Che vogliamo fa oggi Gianfra ci dobbiamo ribellare Ma che vogliamo fa Che continua a darmi Ste 3 pod Con Col cielo verde Su una mac Ti è uscito almeno qualche sparking Ma questa secondo me Pure è vuota Ma proprio vuota totale Gianfra C'è stanno a favopack Mamma mia Ma che brutta roba Ragazzi Ma che roba brutta Gianfra il morale sta scendendo eh A voglia Per entrambi Si sente Ma voglia parecchio Vuota Vuota Vuotissima Quasi quasi non mi dava manco due extreme qua Si vai vai Allora Quarto step X O Più alta Garantita Mamma mia Gianfra Marone Brutta storia Brutta storia Veramente Mamma mia Terribile Coserei dire Bruttissima Non C'è lo verde Però 5 Space Pogu non ce la fa proprio Manca a muoversi da terra Eh Gianfra Diciamo che nel complesso Se Oh aspetta però Cosa Su paspera Genkidama Ah Vediamo Vediamo perché Niente letto Not bad No Vediamo Vediamo Extreme 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 Mannaggia Miserimo Tutto extreme Sparking Eh vediamo Jiren Di nuovo Jiren No fra Cioè in realtà Si però no Dai 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 No 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 Gianfra Sono contentissimo Poteva andare peggio Poteva andare peggio Poteva andare molto peggio Un'altra Sparking Marone Gianfra Vegeta Super Saiyan Blue LF No Quello Quello Che è Viola Ah il viola Ok È finito Nel frattempo Jiren è portato a 6 stelle Se permetti Io direi di fare una cosa Avviamolo insieme il ticket Va bene Insieme Ci sto Ok Allora Io lo comincio già ad avviare E mi porto Al lancio praticamente Della Kamehameha Ok La lanciamo insieme La Kamehameha Va bene Gianfra ci sto Queste cose molto emozionanti E sentimentali Va bene Ovviamente Cielo verde Namecco ormai Ho giusto proprio l'apponamentissimo Gianfra non la lanciare Un attimo Che a me ci sta mettendo Un quarto d'ora Per avviarsi Vai che questa è una SP Anonimissima Non anonimissima No Gianfra Tu ci devi credere Pure a me c'è lo verde 3 space pod Gianfra Mamma mia Ci sto credendo Joseph Ci sto credendo Gianfra Crediamoci Sto credendo Dimmi quando devo andare Ok ci sei? Sì Allora io abbasso 3 2 1 Lancio Vai Via Release Ok L'attenzione Dovebbe essere anonima questa Gianfra Top Gianfra Eh Eh Gianfra Allora L'hai scoppiato da Discord Oppure Ha trovato Goku Ultraistinto Gianfra Goku Ma Super Saiyan 4 Goku Super Saiyan 4 Gianfra Sì Da dove è uscito Goku Super Saiyan 4 Gianfra Non c'era L'hanno messo solo per me Da dove Gianfra giuro Mi ho fatto Lina goto Gianfra 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 Sì Ha fatto soffrire Ragazzi Io Non lo so Lasciate un bordello di like Per Non lo so Per darci l'energia Necessaria a battere A sto punto Questo Ultraistinto Perché ci sta distruggendo Per il momento Cioè Sta vincendo 300 a 0 Per il momento Va detto Giuseppe Chi sa se lo troveremo Chi lo sa veramente Io non Onestamente ho i miei dubbi Anche se le crono Da parte ancora ce le ho Eh però Meh Vabbè La situazione è un pochino Così Ragazzi Detto questo Io vi invito a lasciare un like Un commento Ovviamente andate a recuperare anche il video Sul canale di Joseph Per vedere cosa abbiamo trovato lì Detto questo Joseph Io direi che ci possiamo salutare Yes Senza Aver trovato Goku Tristinto in questo libro Ciao ragazzi Ciao Ciao ragazzi